Buonasera a tutti, benvenuti ad Attenti al Lupo. Non mancano le perplessità ma anche le polemiche su questa ipotesi, decisione da parte del governo di introdurre un sistema di lotterie in cambio degli scontrini fiscali nei negozi e nelle attività piccole imprenditoriali. Sono tante le polemiche e ne parleremo questa sera anche per capire quest'uso del contante. È davvero qualcosa che dobbiamo dimenticare puntando sulle carte di credito oppure è necessario utilizzare un po' il contante nel nostro paese, soprattutto per le persone più anziane. Ne discuteremo con il nostro ospite, che ringrazio, buonasera a Claudio Carpentieri, responsabile del Dipartimento Politiche Fiscali CNA della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Buonasera. Carpentieri, subito una battuta. Sono 7 miliardi da dover recuperare, 7,2, ma secondo lei attraverso questo meccanismo degli scontrini davvero è possibile recuperare gran parte di questi soldi o è una mera illusione? Secondo me a caldo così sembra una mera illusione perché 7 miliardi e 2 sono veramente tanti e penso che sia solo un pezzetto di questi 7 miliardi e 2 che il governo pensa di tirare su dalla lotteria. Allora andiamo subito ai nostri riferimenti a casa. Melania. Sì, buonasera Giuseppe e buonasera a tutti i telespettatori. Come entrare attivamente a partecipare alla nostra trasmissione? Numero verde 800 508 990, Whatsapp 340 880 1035 e naturalmente l'email attentiallupo chiocciolatv2000.it e tutti i social. Cercate la pagina di Attentiallupo su Facebook, su Twitter e su Instagram. E allora io direi al nostro ospite di vedere subito un primo titolo di giornale che abbiamo scelto ed è del Corriere della Sera. Guardiamolo insieme. Come funzionerà la lotteria degli scontrini? Tre premi ogni mese da 50 mila a 10 mila euro. Le chiedo, ma sono pronti anche le piccole imprese, i commercianti, le piccole attività produttive e una cosa del genere? Adesso ancora no perché manca ancora il provvedimento di attuazione che poi peraltro stiamo aspettando dal 2017 perché ricordiamo che questa è una norma come idea che è nata con la legge di bilancio del 2017 e il provvedimento di attuazione non è mai stato emanato. Quindi lei dice che questa idea già era dal 2017, si è bloccata perché in questi anni? Quello che sappiamo noi perché il provvedimento del direttore dell'agenzia dell'entrata ha provato delle ostacoli nella privacy perché ovviamente per capire chi è che avvince la lotteria bisogna comunicare i codici fiscali e quindi bisogna trattare questi codici fiscali dei soggetti che volendo partecipare li comunicano all'esercente. In pratica, poi capiremo perché ricordiamo che stasera alle 21 c'è la riunione del Consiglio dei Ministri per quanto riguarda la legge di bilancio e se ne capirà di più, però voi avete percepito un po' come funzionerà, poi capiremo anche e sentiremo anche delle voci che sono abbastanza critiche perché insomma c'è anche un aspetto etico da prendere in considerazione, ma concretamente come funzionerà? Cioè io vengo in una piccola attività di impresa o in un negozio e che faccio? Mi dà uno scontrino con il codice fiscale, come funziona? No, è che se io volendo partecipare, perché è una possibilità, non è un obbligo, voglio partecipare alla lotteria, quindi chiedo all'esercente di voler partecipare comunicando il mio codice fiscale. L'esercente dovrà comunicare questo codice fiscale associato al mio scontrino all'Agenzia delle Entrate per consentire poi l'estrazione di eventuali premi e quello che sappiamo già da indiscrezioni che valgono solamente gli scontrini di importo superiore a un euro e ogni 10 centesimi superiore a un euro equivale a un biglietto, perché ovviamente ci sarebbe il problema di quelli che comprano da più esercenti, quindi è il prescindere da chi compri, ogni 10 centesimi abbiamo una possibilità di vincere. Una grande rifa nazionale, su questo punto c'è chi critica in qualche modo anche il provvedimento, perché dicevamo c'è anche un elemento etico importante a tenere presente. Abbiamo chiesto il parere al portavoce del movimento slot mob che si chiama Gabriele Mandolesi. Vediamo che cosa ci dice Mandolesi. Questa iniziativa da parte del governo, scontrini fiscali in cambio di lotterie, è qualcosa che vi convince? Noi ci occupiamo di lotta all'azzardo, da quel punto di vista per noi lo rileva moltissimo, noi siamo sempre in attesa che ci sia una riforma seria di riduzione dell'azzardo e quindi questo di certo non è che va proprio nella stessa direzione. certo è che se questa rimanesse l'unica lotteria in Italia e ci fosse una riduzione seria delle slot machine, il bingo e tutte le altre forme d'azzardo, a noi comunque andrebbe benissimo. Eticamente è qualcosa che può influire sulle persone, sui cittadini? Ma ci sono delle esperienze all'estero che hanno fatto vedere che in un primo momento c'è stato anche un aumento delle richieste, degli scontrini e poi le cose sono assestate. Il tema però è culturale, nel senso che la lotta all'evasione, soprattutto a questo tipo di evasione qua, è un discorso culturale, bisogna cambiare la norma sociale che ci fa capire che è giusto da una parte mettere lo scontrino e dall'altra parte chiederlo. Mettere un premio monetario, un incentivo monetario rispetto a questo non risolve la situazione perché non cambia la cultura e l'etica delle persone, anzi nella letteratura scientifica ha un effetto che si chiama effetto spiazzamento perché se io metto un incentivo monetario va a sostituire la norma morale, quindi poi se io levo quell'incentivo monetario che facciamo? Smettiamo di chiedere lo scontrino e smettono anche quelli che prima lo consideravano giusto, quindi è una norma che culturalmente non ci piace tantissimo. Il problema è che viene utilizzato lo stesso meccanismo di rapimento cognitivo delle persone, cioè gli si propongono questi premi sbalorditivi sapendo che non c'è una valutazione delle probabilità corrette. L'azzardo si fonda su questo, premi strabilianti ma con delle probabilità di vincita bassissime, quindi è il classico amo per il pesce poco furbo per incentivare questo tipo di comportamento. Così Gabriele Mandolesi, portavoce del movimento slot mob che battaglia da tanto tempo contro il gioco d'azzardo. Chiedo al nostro ospite, responsabile del Dipartimento Politico e Fiscale del CNA, ma da un lato lo Stato cerca di evitare certe cose, certi aspetti sul gioco, dall'altra parte invece lo incentiva. Lei come se lo spiega, anche in questa manovra ultima, in questa legge di bilancio, poi vedremo come andrà a finire, ma da un lato verrà tassato di più il gioco dell'otto, verrà tassato di più il gratta e vinci, quindi con tasse abbastanza pesanti sulle vinci, dall'altra parte incentiva invece questo sistema delle lotterie. Certo è una contraddizione perché poi, nel senso che anche se il gioco sugli scontrini, non è proprio un gioco d'azzardo perché immagino che uno fa la spesa come la dovrebbe fare, non è che va a comprare solo per vincere, quindi questo potrebbe essere un qualcosa che va nella reazione di dire che non è proprio un gioco d'azzardo, ma è solamente una possibilità. Simola in qualche modo questa attesa di poter così all'improvviso, invece insomma di sudarseli un po', parliamoci chiaramente, quei soldi uno aspetta dall'alto che esce fuori quel numero e poter guadagnare, poi cifre abbastanza ingenti e questo insomma certamente non aiuta una sana competizione e l'attività delle persone. È una contraddizione che poi a mio avviso sono d'accordo con quanto diciamo Andolesi e come ho detto da principio, non è che porterà molto, come dire, come recupera evasione. E allora le faccio vedere il secondo titolo che abbiamo scelto di giornali, il Post, dice ma si può lottare contro l'evasione fiscale con le lotterie? Io la giro questa domanda anche perché, parliamoci chiaramente, insomma l'evasione fiscale è qualcosa che va affrontata nel nostro paese, ma forse non è questa la strada percorribile, giusta o perlomeno non è quella principale per poter recuperare l'evasione, perché è innegabile che comunque c'è tanta evasione. L'evasione fiscale è il problema del nostro paese, ma sicuramente non è quindi se bisogna lottare, ma è come chi deve pagare i costi dell'evasione e che cosa ci si deve fare con i soldi del recupero evasione, questo è il problema, e sicuramente non è la lotteria che fa entrare l'evasione stimata in Italia circa 100 miliardi, quindi voglio dire, è sicuramente una misura molto riduttiva e che sicuramente non avrà un effetto così importante sulla lotta all'evasione. Allora, le faccio vedere un terzo cartello, così vediamo un po' tutto quello che si muove anche nel panorama europeo, l'ADN Kronos, l'agenzia di stampa, dice lotteria degli scontrini, come funziona nell'Unione Europea? Perché è vero che non è un provvedimento solo italiano, però le chiedo, in tanti paesi, anche molto lontani, si parla della Cina, ma anche Malta, dove ci sono situazioni del genere, la Slovacchia, beh, stiamo parlando di paesi senza togliere nulla chiaramente, che non sono tra i paesi del G7, voglio dire, dove c'è una situazione del genere, quindi in qualche modo stride questa cosa, questo percorso che sta facendo il nostro paese? A mio avviso, ripeto, sì, perché individua, come la panacea dell'evasione, una misura che sicuramente non è la soluzione dell'evasione. La lotta all'evasione bisogna farla seriamente, andando anche per strada, perché molti sono gli evasori totali in Italia, che non sono proprio ignoti al fisco. Lei dice facendo i controlli, facendo i controlli, oltretutto oggi è molto facile, con le banche dati è molto facile, se uno ha una Ferrari e poi dichiara 10.000 euro l'anno, insomma, ci vuole pochissimo con gli strumenti che ci sono a disposizione. Però le faccio sempre guardando all'Europa, c'è un paese che è simile all'Italia, come il Portogallo. Beh, il Portogallo c'è una situazione del genere, questa lotteria degli scontrini, però dopo aver all'inizio, nei primi anni, dato delle automobili in premio, puntano sui titoli di Stato portoghesi, c'è danno cifre molto più basse rispetto a quelle che si vociferano per il nostro paese, però insomma uno può vincere dei titoli di Stato portoghesi. In qualche modo forse è anche un modo più giusto anche di avvicinare il cittadino, il consumatore allo Stato. Diciamo ecco, partendo dal presupposto che come abbiamo detto non è la panacea, ma comunque è un modo per far partecipare i cittadini all'assostenimento del debito pubblico. Però non è, ripeto, se mi dai titoli di Stato che mi daranno un quantum da 3, 4, 5 anni a secondo quando scadono l'importo che cambia la sostanza del provvedimento. Le domande da casa, Melania. Ci scrive il signor Valentino da Rovigo, chiede ma questa misura interesserà determinati settori, quelli più a rischio evasione? Non abbiamo ancora il provvedimento ma non può che riguardare tutti i soggetti perché non si può discriminare su questa possibilità. Cioè tutti coloro che certificano i corrispettivi tramite scontrino. Tutto questo, questa possibile lotteria degli scontrini, può creare anche una sorta di dipendenza, pericolosa dipendenza? Perché siamo andati a chiederlo a dottor Federico Tonioni che è responsabile dell'ambulatorio dipendenza del Policlinico Gemelli di Roma e lì ne vedono davvero tanti di casi di persone che hanno queste dipendenze. Vediamo. Nasce sicuramente come un fenomeno, chiamiamolo di costume, come un incentivo che ha uno scopo positivo, non ha nessun riscontro clinico nelle persone che non hanno un problema di patologia con l'azzardo, sicuramente invece con le persone che hanno questo tipo di problema può costituire un input che scatena poi una condotta compulsiva, nel senso che se siamo riusciti a ridurre o allevare la pubblicità sul gioco d'azzardo è un po' come fare uscire una cosa dalla porta e farla rientrare dalla finestra. La frequenza di questi premi, tre al mese, addirittura un premio annuale da un milione di euro e poi dall'anno successivo premi settimanali, questa frequenza in qualche modo è pericolosa? Sicuramente, vale quello che abbiamo appena detto, per le persone che non hanno un problema di compulsività è un incentivo e basta, per persone che hanno questo problema può essere l'innesco di una condotta compulsiva che poi non ha assolutamente a che fare con gli scontrini o con la bontà di questa iniziativa. Quello che lei diceva prima, in qualche modo lo Stato da un lato cerca di fronteggiare il fenomeno e dall'altra parte invece lo incentiva, che cosa accade poi nella testa delle persone, dei cittadini comuni? Ma chi ha un problema di patologia legato al gioco d'azzardo non ha il tempo nello spazio per fare questo tipo di considerazioni, gioca e basta, quello lo dovremmo fare noi, sicuramente parliamo di una realtà molto complessa dove dobbiamo aspettarci, anche se molti di noi magari non sono d'accordo, questo tipo di ambivalenza. Queste le parole del dottor Tognoni molto interessanti sulle quali riflettere, ma vediamo le domande che ci stanno arrivando a casa, i quesiti, Melania, che cosa ci dicono? Ci scrive Gino da Parma, chiede ma per chi paga con carta o bancomat, che quindi normalmente riceve due scontrini, ci sono differenze? Sì, ci sono differenze, ma dobbiamo aspettare il decreto fiscale, perché nel decreto fiscale, nella bossa che sta girando adesso, c'è un aumento della probabilità di vincita del 100%, quindi se paghi con carta di credito e di debito, invece di avere una probabilità per ogni 10 centesimi, ne hai due, dovrebbe essere così. Per incentivare l'uso delle carte di credito, di cui parleremo nella seconda parte. Melania, ancora domande? Una riflessione ci arriva da Gianni, dice ma se la paura è l'azzardo, perché non fornire più uomini, mezzi e tecnologie alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate per rendere invece più efficaci i controlli? Sono completamente d'accordo, perché il problema qui sono i controlli e la responsabilità che ti devi assumere facendoli, quindi è comodo attribuire e far spendere alle imprese gli oneri sui controlli quando invece non li fai te, quindi il punto è più Guardia di Finanza e più Agenzia delle Entrate e più controlli sul territorio. Dal primo gennaio, a proposito delle aziende, delle piccole aziende e anche dei commercianti, bisognerà cambiare i registratori di cassa, perché questa è la normativa, ma tutto questo sono adeguati con questo nuovo sistema ora anche delle lotterie o quelli che l'hanno già fatto dovranno spendere ulteriori soldi i piccoli commercianti? Io mi auguro di sì, nel senso che per fare in modo che gli oneri siano ridotti, questi nuovi registratori di cassa devono avere la possibilità e lasciare la possibilità di indicare il codice fiscale, così quando trasmettono lo scontrino per la lotteria, per la partecipazione alla lotteria, trasmettono anche il codice fiscale, ma ancora non è dato sapere perché il provvedimento non c'è. Tra pochissimo riprenderemo il discorso soprattutto sull'uso delle carte di credito, insomma, e del contante del nostro paese con il nostro ospite Claudio Carpentieri, ci fermiamo qualche istante, poi c'è la rubrica, la rubrica domande e risposte, questa sera sono gli acquisti senza sorprese, poi ritorniamo qui con Claudio Carpentieri del CNA, tra qualche istante. Rientriamo in studio, tra pochissimo parleremo con il nostro ospite delle questioni riguardanti le carte di credito e di contanti, le nuove misure anti-evasione, ma ora è il momento della rubrica domande e risposte. A te Melania. Passa a te Giuseppe. Grazie, grazie Melania. E allora noi torniamo a parlare della questione dell'evasione, ma in particolare di questa voglia di rilanciare le carte di credito, le carte di pagamento e di ridurre sempre più il contante. Chiedo al mio ospite, Claudio Carpentieri, responsabile del Dipartimento Politiche Fiscali del CNA, ma il problema vero per voi e per tanti piccoli commercianti e artigiani è quello delle commissioni, perché sono ancora salate, ma le ridurranno? Voi avete avuto delle indicazioni da parte del Ministero, da parte del Governo, oppure saranno sempre le stesse? Perché è fondamentale stimolare le carte, cosiddette la moneta elettronica, che sono poi di fatto queste, le carte di credito, però quando ci sono dei costi così alti? È impossibile, perché specialmente per gli acquisti di basso importo, la commissione potrebbe anche in alcuni casi annullare il guadagno, quindi diciamo che non abbiamo avuto indicazioni della riduzione dei costi, o meglio indicazioni certe. Il punto è, se rimangono tali, la voglia è incentivare gli acquisti da parte di chi compra, il problema è per chi riceve il corrispettivo che è decurtato dell'importo della commissione, e questo è un problema. Peraltro il problema è anche per chi compra, perché in genere con gli accordi, con ognuno di noi ha le banche, con la propria banca, c'è un certo numero di operazioni che sono gratuite, arrivata poi a questo tetto bisogna pagare, e insomma se noi compriamo dal caffè, se poi dovremmo comprare dal caffè al giornale con la carta di credito, o interviene appunto il governo in qualche modo azzerando, annullando, facendo un accordo con l'associazione delle banche, oppure diventa problematico per le persone che avrebbero dei costi molto più alti. Anche perché poi sì, gli addebiti costano, il punto è che loro vorrebbero compensare questo aumento dei costi con uno sconto fiscale, che a mio avviso dal punto di vista dell'IVA è anche impossibile con la direttiva comunitaria che era regola, perché non si può ridurre l'IVA o ridurre le imposte. Cioè loro dicono che dal 2020 le detrazioni potrebbero avvenire solamente per chi paga con questa carta di credito, gli altri che pagano in contanti non potranno avere detrazioni, questa è l'ipotesi che sta emergendo. Sì, ma questa ipotesi da quanto sappiamo ovviamente non può emergere per l'acquisto del caffè, ma solamente per alcuni acquisti che sono ad esempio la dinteggiatura di un muro, oppure rifacimento del bagno, oppure piccoli lavori di casa che adesso non hanno agevolazioni fiscali o meglio le detrazioni, ma non per tutti gli acquisti che vengono effettuati anche dal supermercato o quant'altro. Vediamo che Melania è ritornata alla postazione centrale, allora Melania ci sono domande sulla questione carte di credito e contanti? Allora in realtà c'era ancora una domanda sulla lotteria degli scontrini, si chiedeva a Carla se questa misura poi andrà di passo con lo scontrino digitale appunto. Andrà di passo con lo scontrino digitale perché una volta era legata a chi optava per la trasmissione telematica con rispettivi, adesso siccome diventerà obbligatoria, quindi è per forza collegata perché dal primo gennaio, l'abbiamo ricordato, tutti devono avere il registratore telematico, quindi il problema non si pone più perché tutti dovranno averlo. Carpentieri, ma lei è responsabile fiscale di una grossa organizzazione come la CNA, ma perché non è possibile fare il cosiddetto, qualcuno lo chiama conflitto di interessi, contrasto di interessi, cioè io dovunque vado, dal medico, vado a fare una visita o viene da me l'idraulico, mi faccio fare la ricevuta e a fine anno la metto all'interno, la posiziono al CAF o dal commercialista, all'interno della dichiarazione dei redditi e così avviene in alcuni paesi. Perché in Italia non è possibile? È un problema legato a cosa? Allora, è un problema legato alla decisione su cosa deve vertere la tassazione, perché la faccio in modo semplice, se la tassazione è il reddito, il reddito viene risparmiato o consumato, se invece io vado a tassare il risparmio devo levare tutti i consumi, se io vado e dal mio reddito quello che tasso è il mio reddito meno tutto quello che spendo per consumare, conflitto di interessi è steso, quello che rimane è il risparmio. Però in alcuni paesi avviene questo ed è uno strumento significativo, perché così io me la faccio fare la ricevuta, altrimenti ci saranno sempre due misure, due prezzi, con la ricevuta e senza ricevuta. Non è proprio così, nel senso che in America si narra che succede questo, ma in realtà è un sistema di tassazione tra la tassazione federale e dei singoli stati. Quindi è più complesso rispetto a quello che noi narriamo e spieghiamo. Vediamo se c'è un'ultima domanda, Melania, su questi argomenti. Vittoria da Milano, una mail, perché dite che non si può pagare un caffè con la carta di credito nel resto del mondo, in paesi che non hanno problemi di evasione fiscale come il nostro, è già così? È già così, dipende sempre solo dai costi. Cioè quell'euro di caffè quanto diventa se lo passiamo con i costi? Se 30, 40 centesimi sono le commissioni, il caffè è un euro e mezzo. E allora noi ringraziamo Claudio Carpentieri, responsabile del Dipartimento Politiche Fiscali CNA della Confederazione Nazionale dell'Artigianato della Piccola e Media Impresa. È tutto per stasera. È tutto per stasera, appuntamento a domani con Attenti al Lupo, sempre alle 19, sempre in diretta su TV2000, è tempo di castagne e noi ci occupiamo proprio di questo, parlando delle proprietà, dei benefici, ma soprattutto del corretto consumo delle castagne. Grazie, a domani.